Prima di tutto vuole avere un valore informativo e quindi rendere consapevole del problema quanto più estesamente le platee, anche quelli che non sono estrettamente addette ai lavori, ma in particolare gli insegnanti e gli stessi genitori che hanno bambini con questi problemi. E poi credo che uno degli scopi sia anche quello poi di tradurre tutto ciò che poi deve essere inquadrato a livello diagnostico e si spera quanto più precocemente possibile in intervento tempestivo e soprattutto che rispetti quelle che oggi sono le evidenze scientifiche più rilevanti. C'è ancora tanto da fare? Direi tanto, però forse proprio in questo tuo periodo si stanno muovendo moltissime cose, anche a livello di norme legislative. Adesso quello che bisogna che succeda è che le norme che adesso cominciano a esserci vengono riempite di contenuti economici e quindi vengono finanziate tutte queste norme, alzimenti restano purtroppo semplicemente scritte ma non attuate. Che situazioni abbiamo in Campania? È una situazione più o meno simile a quella del resto dell'Italia. C'è qualche regione che è un po' più avanti di noi, ma sostanzialmente la qualità della terapia che viene utilizzata per contrastare le problematiche dell'autismo è comunque ancora insufficiente. Il messaggio che io credo di dover affidare al suo canale televisivo è che noi sappiamo da alcuni anni che l'autismo probabilmente non è una malattia guaribile, ma è una malattia molto curabile. E conosciamo quali sono gli strumenti di cura efficaci per ridurre quanto più possibile le disabilità e per avvicinare quanto più possibile i ragazzi che soffrono di questa malattia a livelli di vita simili a quelli dei loro coetanei e a livelli di apprendimento, di socializzazione e di inserimento nel lavoro simile a quella dei ragazzi normotipici. Credo che sia nostro dovere perseguire queste possibilità di cura. Grazie.